E ma il vaccino AstraZeneca è valido per tutti, il rapporto rischi benefici resta positivo, intanto il Codacons lancia un'azione collettiva per chi ha meno di 60 anni ed ha ricevuto il vaccino anglo-svedese, 10.000 euro di risarcimento per aver corso rischi sanitari. Fratelli d'Italia sbanca in consiglio comunale, Tarsi e Pierpaoli lasciano Fano Città Ideale ed entrano nel partito di Giorgia Meloni. Da oggi parcheggi in zona mare a Fano diventano un pagamento, la Lega si dice contraria alla scelta del comune, a Pesaro invece si paga in quello di Campo di Marte, a Baia-Flamiglia, ma solamente nel primo settimana. Le forti raffiche di vento abbattono una pianta che finisce sopra un'auto, pompieri impegnati anche per rimuovere alcuni infissi e vetri rotti dalle finestre di una casa in zona mare. La regione è al lavoro per il nuovo casello di Fano Nord, l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli ha compiuto un sopralluogo a finire di Fano con i tecnici di Società Autostrada. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. In primo piano i vaccini, tutti e quattro, quelli approvati da lei ma incluso anche AstraZeneca, mantengono un rapporto rischi e benefici positivo, soprattutto nei soggetti anziani e vulnerabili, per cui dovrebbero continuare ad essere utilizzati. La posizione dell'EMA sul vaccino di AstraZeneca dunque non cambia, ma naturalmente i casi di trombosi finora avvenuti, soprattutto in giovani donne, sono all'attenzione dell'ente regolatorio. Intanto il Codacons ha lanciato un'azione collettiva per gli under 60, per chi ha meno di 60 anni, per coloro che hanno ricevuto AstraZeneca. È possibile infatti chiedere fino a 10.000 euro di risarcimento per aver corso rischi sanitari. Simona Zonghetti. Dopo il caos scoppiato su AstraZeneca e i casi anche gravi di effetti collaterali registrati nel nostro paese, il Codacons ha lanciato nelle Marche un'azione collettiva in favore di tutti i cittadini della regione con meno di 60 anni che abbiano ricevuto dosi della casa farmaceutica anglo-svedese. La situazione di totale incertezza, si legge in una nota, e i continui cambiamenti nel piano vaccinale hanno di fatto messo potenzialmente a rischio la salute di quei soggetti che hanno ricevuto AstraZeneca, pur essendo categorie a cui la somministrazione era sconsigliabile. Errori, ritardi e repentini dietro front da parte degli enti pubblici, spiega il Codacons, che aprono ora le porte ai risarcimenti. Dunque, i marchigiani che hanno ricevuto singola o doppia dose di AstraZeneca possono aderire all'azione collettiva lanciata sul sito, finalizzata a far ottenere risarcimento anche in assenza di conseguenze fisiche legate alla vaccinazione e per i potenziali rischi corsi sul fronte della salute. Nello specifico, l'azione mira a chiedere il risarcimento di 10.000 euro del danno non patrimoniale causato dalla paura di ammalarsi, che è riconosciuto dalla giurisprudenza da diversi anni, il risarcimento del danno non biologico permanente o temporaneo, riportato per essere stato sottoposto alla vaccinazione AstraZeneca, ma anche l'indennizzo a carico dello Stato nel caso ci sia stata una menomazione psicofisica permanente, che poi dovrà essere valutata e quantificata. E questa mattina si è vaccinato con Pfizer anche il sindaco di Pesero Matteo Ricci. Finalmente è toccato a me, ha commentato il primo cittadino, vaccinarsi è un dovere, dobbiamo farlo tutti per raggiungere l'immunità di greggie. È l'unico modo, ha concluso Ricci, per ripartire e uscire da questo incubo. Nelle ultime 24 ore nelle Marche si è verificato un decesso legato al coronavirus, si tratta di una 81enne residente a Falerone, in provincia di Fermo. I contagi invece sono in forte calo, in tutta la regione sono stati rilevati soltanto tre nuovi casi positivi e il tasso di positività è crollato all'1,1%. Negli ospedali delle Marche resta invariato il numero dei ricoveri, che sono 61, in terapia intensiva ed agenti rimangono 9, mentre i pazienti in semi-intensiva sono 18, un dato che è rimasto invariato. A Pergola invece l'aumento del numero dei positivi, 8 in tutto, con 15 persone in quarantena, fa arrabbiare il sindaco che annuncia non essendoci un numero opportuno di quarantene, stando al report regionale, vuol dire che chi è stato in contatto con dei positivi continua a uscire e a frequentare altri ragazzi, rischiando così di contagiare altre persone. Quindi, conclude il sindaco, i numeri dei positivi potrebbero crescere a breve. Cambiamo argomento, si chiama spiagge accessibili ed è il progetto che permette alle persone diversamente abili di godersi la propria vacanza al mare nella città di Fano in tutta tranquillità. Filippo Pucci. Il turismo accessibile a Fano è anche balneare. È stata infatti presentata questa mattina l'iniziativa che permette alle persone diversamente abili di poter trascorrere le giornate al mare senza problemi o difficoltà. Sono 40, ad oggi, le spiagge nella città fanese che dispongono di sedie speciali che consentono l'accesso in acqua più facilmente e di lettini rialzati per prendere il sole e godersi la propria vacanza al mare al 100%. Il progetto, dal costo di 20.000 euro, è stato possibile grazie alla partecipazione di regione, comune e confattigianato balneari. Come confattigianato balneari, oramai sono tanti anni che abbiamo sposato questo progetto di accessibilità alle spiagge, tant'è che come ci siamo già strutturati da tantissimi anni con i servizi igienici per i portatori di handicap, di passerelle che sono presenti in tutti gli stabilimenti balneari per dare sempre di più un libero movimento ai fruitori che portano ad handicap. E quindi è un progetto per noi molto importante, di anno in anno stiamo crescendo sempre di più dotandoci di queste attrezzature e cercheremo di portarlo avanti sempre crescendo come numero di spiagge. Ad oggi siamo quasi alla totalità degli stabilimenti, siamo dotati sia della seggiola che di lettini e di queste aree per i portatori. Un'iniziativa che ha come obiettivo di rendere ancora più inclusivo il nostro litorale fanese, ha aggiunto poi l'assessore Etienne Lucarelli, grazie alla sinergia tra gli assessorati al turismo e al welfare, alle attività balneari, oltre alle associazioni sulla disabilità e all'assessorato alle pari opportunità della regione. Un progetto molto importante, ha continuato poi l'assessore, che nel corso degli anni vedrà la città di Fano impegnarsi per diventare una destinazione accessibile a tutti. È un progetto che dà davvero un segno concreto perché attrezza con degli ausili gran parte delle spiagge, degli stabilimenti balneari della nostra città ed ha il segno forte e tangibile di spiagge accessibili e quindi di una Fano sempre più aperta e inclusiva. C'è stato un incidente oggi intorno alle 13.30 in via Settima Strada, all'incrocio con via Chiaruccia di Fano. Coinvolte nello scontro, un furgoncino guidato da un romeno di 26 anni e un SUV con a bordo una fanese di 48 anni. Il giovane, dopo aver scaricato la merce al supermercato Conad, non avrebbe dato la precedenza alla donna e a causa dell'impatto entrambi i mezzi sono finiti nel campo adornante la carreggiata. Sul posto la polizia locale del 118 che ha trasportato la fanese al pronto soccorso del Santa Croce. La donna poi se l'è cavata con ferite lievi. Torniamo a parlare adesso invece dei parcheggi. I parcheggi sul lungomare di Fano perché da oggi scatta la sosta a pagamento. Da oggi diventano dunque a pagamento. Contraria alla Lega che torna a ribadire è una decisione scellerata che mette in difficoltà residenti e lavoratori. Parcheggi gratuiti addio almeno fino al prossimo 15 settembre. Scatta da oggi la sosta a pagamento sul lungomare di Fano nonostante le numerose polemiche e le firme raccolte. Le tariffe valide tutti i giorni dalle 8 alle 20 i festivi compresi sono di 60 centesimi per mezz'ora 1,20 euro all'ora 3,60 euro per 4 ore oppure di 8 euro per 8 ore e di 10 per l'intera giornata. Rimangono libere soltanto le aree dell'ex Cife dell'ex Hotel Vittoria in zona Lido e quelle della stazione ferroviaria Sport Park in Viale Dante Alighieri a Sassonia. Dopo le lamentele il comune ha previsto alcune deroghe per gli operatori della pesca e per i residenti di Viale Spuntini Viale Cairoli e Viale Adriatico. Questi ultimi pagando un volo di 16 euro potranno ottenere un contrassegno che permette alle auto di poter sostare gratuitamente negli stalli blu delle stesse vie dalle 19 alle 8.30 della mattina successiva e nella pausa pranzo dalle 12.30 fino alle 15.30. Negli altri orari la misura non è valida. Inoltre potranno richiedere ad Aset la possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale dal costo di 30 euro applicabile per un'auto a nucleo familiare che potrà essere parcheggiata nelle medesime vie a H24 Una rivoluzione che non è mai piaciuta alla Lega Fano che oggi per voce di Marianna Magrini prosegue la sua battaglia e torna all'attacco Purtroppo questa è un'altra delle scelerate decisioni di questa amministrazione che prima ha danneggiato il centro storico con la scelta dei parcheggi a pagamento ed ora si è spostata nel lungomare Una scelta quest'anno dove avremmo preferito avere delle agevolazioni per chi invece veniva al lungomare vediamo invece che mettiamo i bastoni tra le ruote nuovamente i cittadini e i lavoratori della nostra città Abbiamo chiesto da subito di bloccare questa decisione e la scelta di far partire proprio questa stagione turistica il parcheggio a pagamento non siamo stati ascoltati e purtroppo non siamo stati ascoltati nemmeno quando abbiamo chiesto di dare delle agevolazioni ai cittadini e ai lavoratori perché sono state prese semplicemente alcune piccole decisioni per accontentare qualcuno ma non tutti Dopotutto questa scelta di mettere a pagamento solamente questo tratto di strada mette ancora più in pericolo le vie limitrofe che si vedranno quest'estate piene di auto di moto che non hanno più la possibilità di parcheggiare vicino alla spiaggia non ci sono possibilità di raggiungere le nostre spiagge con altri mezzi ma quest'estate purtroppo assisteremo nuovamente a una scelta che mette bastoni tra le ruote alle tante attività e ai cittadini del nostro territorio La guardia di finanza di Ancona ha stroncato un giro internazionale di stupefacenti tra Pakistan e cinque regioni italiane Marche Lazio Campania Umbria e Sardegna le indagini coordinate dalla procura della Repubblica direzione antimafia hanno portato all'arresto di 29 persone al sequestro di oltre 44 chili tra eroine e cocaina gli indagati hanno introdotto ingenti quantitativi di droga destinati in particolare al mercato delle province di Ancona e Macerata anche il cosiddetto hotel house di Porto Recanati era un luogo di riferimento e veniva utilizzato sia per lo stoccaggio dello stupefacente che per lo smercio sul territorio tra i metodi utilizzati dal sodalizio c'era anche quello di occultare la droga prima disciolta e poi solidificata nel materiale di gomma piuma situato all'interno dei trolley usati dai corrieri per i loro viaggi dal Pakistan all'Italia torniamo adesso a parlare di parcheggio però questa volta ci spostiamo a Pesaro perché il parcheggio di Campo di Marte siamo nella zona di Baia Flaminia diventerà a pagamento ma soltanto nei fini settimana Angelica Panzieri ha intervistato i cittadini a partire dal weekend del 19-20 giugno questo parcheggio di Baia Flaminia a Campo di Marte diventerà a pagamento siamo andati a sentire che cosa ne pensano i pesaresi la decisione del comune di Pesaro non trova d'accordo i cittadini l'area parcheggio a Campo di Marte via Varsavia in Baia Flaminia diventerà a pagamento seppur soltanto il sabato e la domenica il ticket scatterà dal fine settimana del 19-20 giugno e durerà tutta l'estate è la vera novità di questa stagione 2021 prima volta in cui i parcheggi della grande area di sosta cambieranno colore da bianchi diventeranno blu dal prossimo 14 giugno fino al 18 infatti gli addetti ai lavori saranno impegnati a ridisegnare gli stalli per essere pronti dal weekend successivo visto e considerato che il parcheggio è libero e di conseguenza è inutile applicare una tassa al sabato o alla domenica quando tutti i residenti soprattutto vengono per fare un weekend tranquillo al mare non sono d'accordo perché sennò qui è un casino col parcheggio a pagamento anche quelli che vengono da fuori i poretti non lo so spendono più per venire qui che per andare in velleggiatura già è difficile trovarlo il parcheggio se poi è anche a pagamento non ci credo non ci crede no cacchio anche questo vabbè perché già mi spiaggia hanno stufato di far cassa che sgangiassero loro qualcosina tanto guagnano bene è già difficilissimo trovare il parcheggio qui mi ha scoperto una cosa che non sapevo quindi assolutamente diciamo contraria a questa decisione beh direi cavolo sì contrarissima io sono contraria perché ho bisogno di mettere la macchina di conseguenza mi tocca trovarla chissà dove sono tutti a pagamento qui a Pesaro ce ne sono rimasti pochi adesso si fanno a pagamento anche questi ma non so dove daremo a finire vogliono fare perché vogliono far parcheggiare di là del porto che c'è la navetta ma di là del porto quanto non c'è ce ne sono pochi molto meno di questi ce ne sono c'è i parcheggi per le corriere dell'area viene un casino di là siamo sempre da piedi tal canto suo l'amministrazione comunale fa sapere che questa scelta è stata presa nell'ottica di incentivare i parcheggi scambiatori serviti il sabato e la domenica dalla navetta gratuita questo sia per ridurre l'inquinamento che per una migliore gestione degli stalli la gratuità della sosta infatti rischiava di ingessare il ricambio delle automobili che spesso rimanevano ferme tutto il giorno in quel parcheggio il parcheggio di Baia Flaminia diventerà pagamento perché abbiamo pensato che potesse essere una soluzione per cercare di riordinare una zona che attualmente è molto congestionata che potesse servire a garantire la rotazione per tutti gli utenti quindi un parcheggio che deve essere al servizio non solo delle persone che vanno al mare ma anche delle persone che si recano alla Baia Flaminia per andare in una delle attività commerciali chiaramente come abbiamo detto più volte non è un sistema per far cassa perché contestualmente al pagamento del parcheggio ci sarà negli stessi medesimi orari una navetta gratuita per tutti che partirà dai due porti e passerà ogni 15 minuti quindi è un servizio molto vicino ai cittadini facile da usare facile da prendere che può coniugare un po' tutte le esigenze i vigili del fuoco sono entrati in azione questa oggi a causa del forte vento che ha colpito anche la nostra regione a Fano in Viale Vittorio Veneto un albero è caduto sopra un'auto in sosta come vedete da queste immagini per fortuna all'interno non c'era nessuno quindi i pompieri hanno provveduto al taglio dei rami e alla messa in sicurezza dell'area interessata invece in Viale Cesare Battisti nella zona del mare sono stati rimossi infissi e finestre di una casa che sempre a causa del vento continuavano a sbattere provocando la rottura dei vetri la politica locale con Fratelli d'Italia che sbarca in Consiglio Comunale a Fano Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli lasciano infatti la lista Fano Città Ideale ed entrano nel partito di Giorgia Meloni Lavoriamo per restituire alla città lo splendore che la caratterizza dove governiamo facciamo la differenza il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollo Brigida ha raggiunto la terrazza panoramica dell'hotel Astoria per presentare i nuovi esponenti i consiglieri comunali Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli entrano ufficialmente nel partito di Giorgia Meloni costituendo così il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia di cui Pierpaoli sarà presidente tra i nostri obiettivi ha spiegato l'onorevole ci sono quelli di una sanità di prossimità creare posti di lavoro ma anche di mettere i cittadini nelle condizioni di fare figli combattendo così lo spopolamento e la disoccupazione punteremo sulle infrastrutture sull'abbassamento delle tasse a favore degli imprenditori e combatteremo l'immigrazione clandestina terza città delle Marche una città importante che nella storia ha rappresentato un crocevia di tanti eventi fondamentali nella regione Marche Francesco Acquaroli sta restituendo l'orgoglio ai cittadini delle Marche della loro storia delle grandi capacità delle grandi potenzialità che rappresentano i nostri obiettivi sono di fare delle Marche un simbolo di buon governo e l'inizio è davvero promettente oggi siamo qui a Fano a festeggiare la costituzione del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia con due consiglieri eletti nelle liste civiche che scelgono Fratelli d'Italia perché Fratelli d'Italia oggi è diventato un punto di riferimento anche per coloro che avevano scelto il civismo l'associazionismo e che oggi pensano che anche i partiti e in particolare ovviamente Fratelli d'Italia possano tornare a rappresentare il popolo nelle proprie istanze presente anche l'onorevole Emanuele Prisco commissario provinciale del partito che ha parlato di inadeguatezza di chi governa la città Fratelli d'Italia sbarca in consiglio comunale questo contribuisce all'azione di Fratelli d'Italia che ha già un nucleo molto forte sulla città anche all'interno del consiglio comunale per dare un'alternativa un riscatto a Fano che merita un'amministrazione differente rispetto all'attuale Intervenuti anche l'assessore regionale Francesco Baldelli consigliere regionale Baiocchi numerosi dirigenti del partito a livello nazionale e locale nonché gli attivisti dell'associazione Fano città ideale di cui Tarsi e Perpaoli facevano parte ho deciso insieme alla Lucia di passare in Fratelli d'Italia per avere più concretenza più incertività più potenza per portare avanti le problematiche di Fano che obiettivamente siamo un po' in carenza il passaggio il passaggio è stato definito dalla Tarsi un'evoluzione molto sentita la consigliera candidata a sindaco del centrodestra nel 2018 ha lamentato la supremazia della vicina Pesaro che ha massacrato il nostro territorio ha detto la Tarsi portandosi via pezzo dopo pezzo qui invece non ci sono progressi e non vengono prese decisioni Fano ha concluso deve recuperare se stessa e ripartire una scelta che è stata maturata ma del resto siamo sempre noi siamo sempre stati questi non cambieremo nel senso che continueremo a portare avanti le nostre battaglie che sono quelle per la sanità per la nostra città per le fasce fragili per i giovani della nostra città e continueremo a lavorare con un gruppo più ampio di persone che condividono con noi le stesse idee e mi permetto di dire gli stessi valori e soprattutto la stessa coerenza La Regione è al lavoro per il nuovo casello Fano Nord questa mattina l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli ha fatto un sopralluogo a Fenile di Fano con i tecnici di società autostrade il casello ha commentato l'assessore consentirebbe di ottimizzare e rendere più sicura la viabilità tra Fano e Pesero liberando dalle auto la statale adriatica la problematica emerge ancora di più durante il periodo estivo quando la statale è presa d'assalto dai bagnanti che lasciano i mezzi parcheggiati ai lati della carreggiata con problemi di sicurezza che una viabilità alternativa andrebbe a risolvere festeggia il suo cinquantesimo anniversario l'hotel ristorante Giardino guidato dalla famiglia Biagiani Letizia Marchionni Soffia su 50 candeline l'hotel ristorante Giardino guidato dalla famiglia Biagiani e situata a San Lorenzo in campo è uno dei luoghi di eccellenza della cucina marchigiana una storia che dura mezzo secolo e che nasce dal grande desiderio di Efresina Rosichini cuoca storica del ristorante madre di Massimo Biagiani ora patron dell'attività di fare conoscere i piatti della tradizione serviti in un piccolo locale di paese ma con l'accoglienza tipica di una famiglia Efresina con il suo grande amore per la cucina è riuscita grazie alla sua caparbietà a distinguersi in Italia e all'estero per la sua cucina semplice ma con materie prime e di eccellenza e dopo anni di lavoro costellati di successi e traguardi raggiunti tra cui anche l'importante riconoscimento di Andreotti che insegne Efresina del titolo di Cavaliere del Lavoro nel 1994 arriva al ristorante anche la prima stella Michelin il giardino nasce nel 1971 come una trattoria come tanti altri con 4-5 camere e mia madre aveva un'esperienza già di qualche decennio insomma una donna che a 60 anni parte e va da Vergine in Francia senza parlare una parola di francese a vedere quello che significava il nuovo concetto della cucina e poi tornata con tanto entusiasmo mettendo a frutto insomma cercando di coniugare insomma la sua esperienza con quella che erano i piatti della nostra tradizione alcuni anni che abbiamo intrapreso l'attività di catering che sostanzialmente ci ha permesso di portare la nostra cucina all'interno delle case dei nostri ospiti per festeggiare il grande traguardo raggiunto dei 50 anni dell'hotel ristorante giardino Massimo Biagiali assieme alla moglie Patrizia dal figlio Paolo ha scelto per lo scorso 8 giugno un menù speciale che segue la filosofia del ristorante ovvero della promozione del territorio attraverso la gastronomia un menù che mescola piatti storici apprezzati nel tempo ed altri di nuova generazione simbolo che il ristorante giardino resta sempre al passo con i tempi un carosello di sapori che prevede involtini di melanzane con ricotta del catria uovo cotto su crumble di nocciola per poi passare a dei passatelli asciuti con porcini tagliolini con ragù di piccione e pasticciata pesarese di manzo piatto che ci ha portato fortuna piacque tanto l'ispettore della guida michelin che negli anni 90 ci riconosce la stella michelin che la teniamo per alcuni anni era fatta con la pera angelica di sera ungherina che viene cotta dentro un passito in questo caso di verdicchio uno zabaione di venzanto insieme un formaggio erborinato morbido dolce e una spolverata di cacao tutt'oggi lavoriamo con grande entusiasmo 50 anni e non sentirlo e dai 50 anni del ristorante ai 100 anni di Lola così come viene chiamata il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri ha fatto visita ad Aurora Battisti che appunto oggi compie 100 anni Aurora conosciuta da tutti come Lola ha vissuto a Fano fino al 2017 quando poi si è trasferita a Marotta dove vive tuttora subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato ai mercoledì degli artisti girato nel centro storico di Fano per le vostre segnalazioni vi ricordo il 338 4968 250 e vi ricordo anche che domani mattina alle 7 c'è Occhio ai giornali il commento alla stampa del giorno arrivederci